salve ragazzi oggi vi voglio mostrare le mie carte leggenda prime reverse ok, aspettate ok io direi che inizio, allora faccio vedere solo le principali perchè va beccissime le leggi il primo oppure leggenda parte sopra oppure leggenda parte sotto lupi a leggenda parte sopra lupi a leggenda parte sopra rai cresce sopra d'arca crescele parte sotto rai cose dei oxi sparte sopra rai cose dei oxi sparte sopra qualche di alga parte sopra qualche di alga parte sopra rai cui sui cui parte sopra sui cui sui cui rai 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 a livello X e Palkia a livello X Adseus livello X Shaming livello X Shaming Shaming Crobat livello X e Crobat Prime scusate Meganium Prime Gengar Prime e Scizor Prime Slowking Prime e Lantorn Prime Rayquaza X e Dragonitex Deoxys X Deoxys X e Meganium X Vamporion X e Herman X Selby X Selby X e Pikachu Stella Meganium Prime i voti e Demidia le 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 arceus terra e arceus spadale non 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 rai quasa livello x rai q sul cuore il teiolo anche era tutte le carte tutte le carte e tutte le carte aspettate cerco di fare veloce aspettatemi un attimo non chiudete il video faccio vedere tutte le mie metà insieme poi beh ecco di far veloce perchè intanto posso fare fino a un quarto d'ora quindi diciamo di tempo non 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 con non 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 lupia ok ho i pezzi di intero ho i pezzi di intero sotto se mi interessa ho alcuni sicuro ne scambio solo per altre due metà intera sì per una metà intera palchi di alga e dioxicare grazie a tutti ci vediamo alla prossima da aspettate e niente ciao